Oggi vi spiego un po' come faccio gli schemi sul computer. Io uso questa app, che è Pages. Come sapete ci sono un sacco di modelli, ma per gli schemi preferisco usare o il bianco o il nero. Questa volta usiamo il bianco. Per il titolo utilizzo questo font. Per il testo invece utilizzo questo. Non mi ricordo bene se i font che sto utilizzando sono di default su Pages, però nel caso li ho scaricati da qua, da font.com. Ce ne sono veramente tantissimi di ogni genere. E vabbè, cominciamo. Ecco come sta avvenendo adesso. Ovviamente a seconda della necessità ho colorato oppure inspessito il carattere. In più ho aggiunto delle foto nelle parti in cui le cose magari erano meno chiare. E nulla, proseguiamo. E questo è il risultato finale. Niente di così speciale. E questa è il risultato finale. Niente di così聞ita. Grazie a tutti